Ciao! Siamo felici che tu stia considerando l'acquisto di un super monopattino elettrico. Ti presentiamo 5 buoni motivi per cui acquistare da noi è la scelta giusta per te. Primo. Offriamo solo monopattini elettrici con materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Secondo. Pagamenti rateizzati senza interessi. Terzo. Garanzia biennale sui tutti i nostri prodotti. Quarto. Effettuiamo un tagliando gratuito per mantenere efficiente il tuo monopattino. Quinto. Assistenza post vendita gratuita attraverso una rete di officine sparse su tutto il territorio nazionale. Non dovrai inviare il tuo monopattino elettrico lontano per la riparazione. I nostri tecnici altamente qualificati possiedono anni di esperienza nel settore. Scegli di acquistare un super monopattino elettrico e scopri perché siamo il partner ideale per la tua mobilità sostenibile.